Così inizia il video, salve a tutti! Salve a tutti! Come avrete letto sicuramente dal titolo, oggi vi mostro e testo con voi per la prima volta dei prodottini che ho acquistato su Cosmetic for Less. Era la prima volta che ordinavo da Cosmetic for Less, ho deciso di ordinarci perché ne sento parlare sempre da tutte le ragazze che fanno i video su YouTube. Quindi ho deciso, beh, proviamoci, e ho ordinato un po' di cosine nuove. Ho fatto quest'ordine il 29 marzo e mi è arrivato oggi che è 3 aprile. Ci ho messo veramente poco, era tutto ben imballato, non vi mostro scatole altro perché in questa situazione di emergenza io sto. E niente, direi di iniziare subito. Ho comprato più o meno tutto il necessario per fare una full face, sperando di aver ingarrato la colorazione del fondotinta. Direi di cominciare dagli occhi. Io personalmente ho ordinato questa palette qui di Makeup Revolution, collaborazione con la Lexi Stone, che ho pagato 16,80€ e mi è stata regalata anche perché con Cosmetic for Less quando raggiungi una certa cifra di pagamento per il tuo ordine che hai accumulato, ne puoi scegliere uno in particolare. Io ho scelto il prodotto che volevo come omaggio e ho scelto questa palette qui, sempre di Makeup Revolution, in collaborazione con Jack. E questi sono tutti colorini, però questa qua la proveremo insieme in un altro video. Questa palette qui è enorme, presenta all'interno 28 colorazioni, il pack è in cartone, ma un bel cartone resistente. Questa ha uno specchio gigantesco che oggi ci farà anche da specchio per noi. C'ha la plastica protettiva. Questa palette non presenta i nomi sulla plastica, non li presenta neanche dietro, quindi sono tutti colori senza nome. E questa è la shade range di questa palette. Non ho un primer nuovo, o comunque un correttore nuovo, quindi vado a usare la base che sto utilizzando di solito, che è il fondotinta Conceal & Define di Revolution. Quella là troppo chiara per la mia colorazione. Direi di cercare di provare più colori possibili, quindi farò due trucchi diversi. Comincio col prelevare uno di questi viola, direi questo qui più chiaro, da utilizzare come colore di transizione. Spolverano un pochino, ma nella palette neanche tanto. Io ho visto molte recensioni di questa palette, prima di decidermi a comprarla, perché io sono sempre un po' diffidente. Nel senso che troppi colori troppo belli e mi sembrava assurdo che potessero fungere bene. Però le recensioni erano molto positive. Io lo sto prelevando in maniera molto delicata, quindi il colore non è pieno. Vediamo stratificandolo cosa viene fuori. Si stratifica molto bene. Il colore che risulta sulla palpebra è molto veritiero, anche se sulla mia tipo di carnagione esce un po' di più la parte rosina del colore. Però dipende appunto dalla mia carnagione. Vado a prelevare questo colorino qui. E lo vado a sfumare. Li trovo veramente strasfumabili. Si stanno sfumando veramente da Dio. La mia comunque è una base bagnata e non stanno facendo macchia. Ora vado a prelevare questo rosso qui, quello più scuro. E lo vado ad applicare, vediamo com'è. I rossi sono complessi. Questo spolvera di più. Questo è quello che per il momento tra i tre che ho provato spolvera un po' di più. Ed è anche l'unico che al momento mi sta facendo ma proprio un lievissimo fallout. Cioè voi dalla fotocamera non lo vedrete neanche. Vado a sfumare anche questo. Vediamo se perde l'intensità. Non mi sembra. Voglio andare a provare questo giallo. Che se funziona bene mi pentirò di aver fatto i video in cui ricreo il look di Andrea Cimatti prima di averla comprata. Non è un giallo fluo però è un bel giallo. Calcolate sempre che io non ho applicato una base al di sotto di questo giallo. Quindi comunque si sta andando ad amalgamare agli altri colori. Però questo qui a differenza degli altri anche del rosso sta facendo un bel po' di fallout. Poi vedete una macchia nel rosso che però nella realtà non c'è. Per intensificare ulteriormente la via esterna vado a prendere il viola più scuro della palette. Il viola scuro è l'unico che in questo momento mi sta creando un po' più di problemi nello sfumarsi. Cioè nel senso che gli altri mi si sono sfumati in tre secondi netti. Questo è livellamente più durino da sfumare ma comunque si sfuma. Voglio usare il blu ovviamente che non ho usato ancora. Vado a prendere questo celestino qui da mettere nella piega. Ora vado a prendere il blu più scuro. Questo qui. E lo vado ad applicare anche questo nella via esterna. Non è scuro come immaginavo. Dal pen sembra più scuro. Voglio andare ad applicare questo verde qui. Provo ad applicare sempre con un pennellio piatto il verde più chiaro. Per intensificare ancora di più l'angolo esterno vado a prelevare un pelino di nero. È più un grigio antracite che il nero. Se ci fosse stato un blu o un verde con questa intensità sarebbe stato fantastico. Trovo assurdo che abbia dovuto utilizzare il nero per arrivare a questo. Però come vedete c'è una macchiolina che però è dovuta dalla sovrapposizione del nero e del blu. Ora passo a quello che è la mia base. Non ho ancora messo primer né niente. Perché in realtà avrei due cose. Ho questo qui che è un Prime & Fine di Catrice con il finish matte. Che però andrò a utilizzare come fix and spray. Perché ho comprato anche questo Black Blur Smoothing Primer. Da chiuso si presenta in questo modo. Come vedete è nero come primer. Ci sono 12,5 ml di prodotto all'interno e c'ha un pow di 6 mesi dall'apertura. È un prodotto trovabile esclusivamente online e costa 3,57 euro. Ne vado a prelevare un po' e lo applico lì dove i miei pori sono più evidenti. Allora bisogna stenderlo e nel momento in cui lo si è steso e si è asciugato non toccarlo più. Perché altrimenti, ecco vedete, fa questo. Si toglie tipo pellicola. Già così senza fondo. Sembra aver ridotto e non di poco i miei pori. Anche in questo caso ho un nuovo prodottino per la mia base. Ed è un fondotinta nuovo. Ho preso il Conceal & Hydrate. Quindi la versione idratante di questo fondo con tinta qui. E non ho preso la stessa colorazione. Perché questa qui che era troppo chiara era F0.1. Ho preso questa volta l'F2. Anche la pompetta è diversa. Questo fondotinta è appunto la pompetta. Questo qui ha lo scovolino tipo correttore. Ma credo che questo ormai... Cioè io credo di essere l'ultima al mondo che abbia comprato questo fondo. Però va bene. Senti che forse invece è proprio il mio colore. Allora ho voluto comprare il Lightrate invece che una colorazione un po' più scura del Conceal & Define. Perché come effetto finale di coprenza quel fondo mi piace davvero un sacco. Però è veramente spesso. Come coprenza non è male. Per chi ha pelle grassa non è ovviamente un fondotinta che può essere applicato non settato. Io ho la pelle mista grassa. Quindi lo andrò a settare. Questo fondotinta l'ho pagato 9,99€. E ossida un pochino. Me ne sto rendendo conto ora che sto applicando l'altro lato in questo momento. Ho applicato anche il mio correttore off camera. Perché appunto non ho un correttore nuovo da mostrarvi. Io per la mia tipologia di pelle ho l'assoluta necessità di fissarla. E anche per questo un prodottino nuovo. Ho comprato questa qui che è la Revolution Banana Light Baking Powder. Di questa cipra io ho sentito parlare benissimo da tantissimi beauty guru e youtuber come li vogliamo definire. E la volevo comprare da un sacco di tempo. Da quando è uscita in realtà. Ma negli store fisici ho sempre trovato la banana. Che per me la ritenevo troppo troppo scura. Su Cosmetic for Less invece ho trovato la banana light. Quindi subito l'ho comprata. L'ho pagata 5,99€. Quindi 6€. Il contenitore per una cipra secondo me è non scomodo di più. Questo come si leva? C'ha un adesivo sopra. Nonostante sia la banana light è particolarmente gialla. Ce n'è dentro tanta. Qua dentro ci sono 32 grammi di prodotto. E c'ha un po' di 12 mesi. Quindi di un anno dall'apertura. Allora è un peccato. Sto avendo problemi con la cipra. Però secondo me ho applicato troppa cipra nel baking. Aspetta vi avvicino così vedete anche voi. Come vedete in alcune zone del mio viso tipo qui si è andata a sedimentare la cipria in alcune zone. Non so questa cipria nelle zone dove non ho fatto baking mi piace tantissimo. Credo che la utilizzerò da oggi in poi per fissare senza fare baking. È una cipria levigante, molto sottile, impalpabile, levemente colorata. Come piacciono a me. Ok dopo aver fatto questo voglio passare al bronzing contour. Ho comprato questo set di quattro di Revolution Pro. La 4K Bronzer Palette. Alla modica cifra di 8,99€. C'ha un po' di 12 mesi. È cruelty free e vegan. Allora tutti i prodotti che ho utilizzato sono vegan e cruelty free. Tranne questo primer qui. Perché non c'è scritto sopra. Però dovrei fare una ricerca più approfondita perché spesso non lo scrivono perché costa di più applicarci sopra il marchio. Comunque parlando di questa palette presenta quattro cialdine da 4 grammi ognuna. Questa è la colorazione cool. Non mi ricordo quante colorazioni c'erano se due o tre di questa palette. Io dovrei aver preso la più chiara. Ci ricordo bene. Anche questo è un pack in cartone. Si chiude con i magneti. Non presenta lo specchio. Vado ad utilizzare l'intermedia. Sono molto più pigmentate di quanto io immaginassi. Allora dalla fotocamera così sembrerebbe perfetto. Ma dalla realtà non ce n'è. Ok mi sembra andare tutto bene. Prima di applicare il mio illuminante vado a spruzzare il Fixing Spray. C'ha un buon odore. C'ha lo stesso odore del primer. Quindi non riesco a definirlo. Però ha uno spruzzo molto molto intenso. Quindi mi sto bella distante. Lo faccio asciugare un po'. Poi vado ad applicare tutto il resto. Nel frattempo continuo gli occhi. Io questo video immagino verrà veramente lunghissima. E non vi ho detto il prezzo del Fixing Spray. Il Fixing Spray costa 4,45€. Devo dire, se lo spruzzate da lontano non ha un getto troppo forte. Non presenta alcol all'interno però presenta del profumo come ultima posizione. Ed è effettivamente opacizzante. Però non troppo opacizzante. Cioè nel senso che vedete anche il blush illuminante che ho applicato è rimasto comunque illuminante. Ok, ho applicato l'illuminante che è sempre quello là della perlescenza bianca di questa palette revolution che uso sempre. Però vuoi la base che mi piace molto. Vuoi questo Fixing Spray si è aggrappato da Dio. C'ho un eyeliner nuovo in primis. Questo qui è di Makeup Revolution. L'ho pagato 5,95€. Anche questo è vegan e cruelty free. Il packaging si presenta in questa maniera. Voi lo vedete argentato ma è un rose gold. Molto cheap di plastica. Mi sono resa conto che se non sono i prodotti che mostro ad essere un fail, lo è il video di per sé. Mi sono resa conto di non aver registrato l'audio del video fino ad ora. Ero convinta di aver fatto partire la registrazione audio ma a quanto pare non è venuta partire. Mi si è bloccata la registrazione mentre parlavo dell'eyeliner. Quindi parliamone. Ho fatto due linee completamente diverse appositamente. Ho utilizzato questo eyeliner qui il cui prezzo è di 5,95€ ed è l'eyeliner Super Flick di Revolution. Ha una punta in feltro molto sottile. Appuntita molto molto bella. Mi piace molto questa punta. Non è waterproof. Il primo ingrediente è l'acqua. Ciò nonostante mi sono lavata le mani e la linea di prova che ho fatto sulla mano è rimasta esattamente come quando l'ho applicata. Si asciuga in maniera semi lucida. Non è opaco ma non è neanche lucidissimo come eyeliner. È un bel effetto. Non è doppio. È molto sottile. Quindi mi piace un sacco. Anche questo è un prodotto sul quale sono felice di aver speso i miei soldi. Il prossimo prodotto nuovo che sono andata a comprare è questo mascara dalla fortuna molto equivoca ma da un colore di packaging che a me piace tantissimo. Che è il Glam & Jowl Car & Volume Mascara di Catrice Cosmetic. Ha lo scovolino fatto in questo modo quindi è a bananina però non troppo incurvato. E l'ho pagato 3,95€. Promette di essere ultra black, incurvante e volumizzante. Lo vado ad applicare anche se ho preso delle ciglia finte ma voglio provarlo anche perché io nella vita di tutti i giorni le ciglia finte non le utilizzo. Partiamo dal presupposto che io ho delle ciglia particolarmente sfigate quindi le mascara dovrebbero fare miracoli per salvarmi le ciglia. Non le ho piegate col piegaciglia cioè nonostante le vedo abbastanza incurvate, non particolarmente volumizzate. È molto molto nero questo mascara. Lo so voi non lo vedrete mai perché ho questa liugnona di eyeliner. Non lo vedrete mai. Però devo dire mi piace un sacco. Dovevo provarlo per più tempo per vedere se si spezzetta, se crolla, se regge come durata, come effetto. Quindi vi farò sapere successivamente. Per le ciglia inferiori mi piace molto il risultato perché le separa però nello stesso tempo le voluminizza un po'. Il problema è che essendo uno scovolino così doppio, uno scovolino così doppio per le ciglia inferiori è facilissimo sporcarsi. C'ho gli ultimi due prodotti nuovi da provare che sono uno, una colla per ciglia finte. Questa è di Catrice ed è la Lush Glue. E l'ho pagata 2,95€. E poi ho comprato due paia di ciglia finte. Entrambi abbastanza naturali anche se abbastanza lunghe, specialmente queste. Uno è della Red Cherry 100% Human Hair. Anche questi sono 100% Human Hair solo che è della Lany Lush. Queste qui di Lany Lush le ho pagate 2,95€. Mentre invece queste qui di Red Cherry le ho pagate 3,45€. Questa ciglia finta qui le ho volute provare perché le ha mostrate in uno degli ultimi video Deborah Fully dicendo che lei ci si trovava molto bene, le piacevano molto. E queste qui sono nello stile Sage. Mentre invece queste sono nel modello numero 120. Ho deciso di voler provare entrambe le ciglia finte. Quindi applico quelle di Red Cherry sul rosa e le altre di Lany Lush invece sul verde. L'applicatore di questa colla non mi piace. Non è a pennellino come speravo in realtà fosse, dal sito non si capiva bene. Ha la stessa forma degli applicatori dei lip gloss, però è di plastica rigida. Come vedete sono molto, molto naturali. È l'unico compromesso che ho per indossarle. Con questo eyeliner sotto non si vede, però vedete ci sono, sono molto lunghe. Queste sembrano essere lievemente più corte di quelle di Red Cherry. Anche queste hanno la banda trasparente. Devo dire che questa colla si asciuga abbastanza velocemente, non devo aspettare tantissimo. E le ciglia si sembrano ben attaccate. Ho provato tutti i prodotti che ho comprato. In totale ho pagato 74,04 euro, compreso le spese di spedizione. Devo dire che quasi tutti i prodotti che ho comprato mi sono piaciuti veramente tanto. In particolar modo la palette l'ho trovata veramente molto, molto valida. Specialmente per il prezzo che hanno, mi sarei mai aspettata una qualità di ombretti veramente così alta. Sono veramente molto pigmentati, molto facili da sfumare. Sono stratificabili in una maniera straordinaria. E mi è costata 16 euro e qualcosa. Quindi anche il fondotinta mi è piaciuto particolarmente. Alla fine la colorazione non è così lontana dalla mia. Riesco tranquillamente a farla funzionare. Io ci potrei tranquillamente uscire. È molto bella la texture che ha la mia pelle in questo momento. È molto naturale. Il primer devo provarlo per più tempo per dirvi un reale parere riguardo a questo prodotto. Perché così non mi sembra aver fatto tanto, però non mi è sembrato neanche del tutto inutile. Non so, devo provarlo più volte per farvi sapere. La cipria, stessa situazione. Devo capire bene come utilizzarla nel baking perché secondo me l'ho applicata troppa per fare il baking. L'eyeliner sicuramente lo utilizzerò molto più spesso. Mi sembra molto a lunga denuta, anche se non è stra opaco. Comunque non è stra lucido, non è un pugno nell'occhio. Questa palette per il contour ci devo prendere un po' la mano. Ciò nonostante non la trovo negativa, specialmente per il prezzo che ha. Però appunto bisogna gestirsi bene con la quantità di prodotto che si prende col pennello. Ciò nonostante le trovo molto molto sfumabili, strapigmentate. Forse troppo per i miei gusti per quanto riguarda le terre e i bronzer. Spero che questo video vi sia potuto essere utile in qualche modo. Con questo sito mi ci sono trovata veramente bene e sicuramente riordinerò a breve. Spero che anche voi i prodotti che vi ho mostrato vi piacciano. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Vi ricordo che di questa tipologia di video ce ne sono altri sul mio canale. E li trovate tutti quanti in una playlist che vi ho messo qui nelle schede informazioni intitolata Proviamole Assieme. E niente, per il video di oggi è tutto. Io vi ricordo di sostenermi iscrivendovi, cliccando il pulsantino iscriviti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, se i miei acquisti vi hanno interessato un minimo, mi raccomando mettete un bel mi piace. Se vi va, seguitemi su Instagram e TikTok. Trovate i miei nickname qui e anche in giro per il video, come il mio solito. E niente, per oggi è tutto. Camarone va a compagno e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E anche oggi un nuovo Jeff ha deciso di farci compagnia. E la Kumana passa anche in tempi di quarantena. Ma però... Sono confusa, troppi colori. Bella, bella, bella questa palette. Perché io non trovo mai niente... Perché c'è la plastica anche questo? Perché il mio brufolo è diventato nero improvvisamente? Perché c'ho il dito giallo? Mi sto trasformando forse in un Simpson? I close it!